Approvato il bilancio regionale 2014, c'è grande soddisfazione nella maggioranza, soddisfazione anche da parte del Presidente della Prima Commissione, Emilio Nasuti. Grossa soddisfazione perché è la quinta finanziaria che mi onoro di presiedere, di portare in aula e soprattutto di approvare. Finanziare e tutti i bilanci che abbiamo approvato in questi anni sono stati bilanci di rigore, bilancio che miravano e puntavano al risanamento di questa nostra amata regione. Se solo pensassi ai 4 miliardi ereditati, al fatto che in 4 anni e mezzo abbiamo tolto un miliardo di tassi a tutti i cittadini, un miliardo di debiti a tutti i cittadini abruzzesi, significa aver fatto un ottimo lavoro. Abbiamo ridotto di oltre 10 milioni il costo della politica prima ancora che scoppiassero tutti i casini a livello nazionale. La regione Abruzza è stata presa ad esempio soprattutto sulla riduzione dei costi. Abbiamo ridotto i consiglieri regionali da 45 a 31, abbiamo tolto le indennità chilometriche, abbiamo tolto i cosiddetti privilegi dal telepass ai rimborsi chilometrici. Quindi significa rispetto per i cittadini, rispetto soprattutto per quei tanti cittadini che stanno soffrendo in un momento come questo. Ultimo finanziario e ultimo bilancio, molto rigoroso, dove ci siamo preoccupati effettivamente di mettere le poste e assegnarli ai capitoli solo su quei capitoli che riguardano il sociale, la cultura, il lavoro. Quindi significa una finanziaria che guarda al momento che stiamo vivendo. Io mi auguro che la regione continui a lavorare in questo meccanismo, evitando così come è accaduto prima che arrivassimo noi che si dessero finanziamenti a pioggia a chiunque li cercasse. Noi abbiamo evitato tutto questo e ci siamo preoccupati, come dicevo prima, di far risalire un po' la china a questa regione e soprattutto di ridargli un'impostatura che le consentirà sicuramente di camminare molto meglio di quando siamo entrati.